Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E benvenuti in un nuovo video approfondimento Esatto, oggi andiamo a parlare dell'input lag Cambia la veste ma non cambiano le offerte e anche per il 2021 ci accompagna WhoKeys Su WhoKeys potete trovare chiave di software, sistemi operativi e giochi A partire da Origin, Steam, Uplay e perché no, anche Playstation Non cambia neanche il nostro codice sconto per software e sistemi operativi Ad esempio inserendo PD20 a carrello per l'acquisto di Office 2016 ricevete il 20% di sconto Oppure la classica chiave di Windows 10 Pro OEM sarà sempre disponibile a 10€ Vi basterà quindi inserire il codice sconto, selezionare Paypal con metodo di pagamento e il gioco è fatto Ma ora torniamo al video Ah, che argomentone Innanzitutto io direi di fare un attimo una premessa perché molti confondono input lag con tempo di risposta Molti per non dire tutti Sono due cose completamente diverse Allora, di input lag non abbiamo mai parlato in maniera approfondita fino ad adesso E quindi ci trovavamo in dovere, ci sentivamo in dovere di dover dare appunto un po' più di spiegazione Proprio perché viene dato molto spesso, non per scontato, non si conosce proprio Cioè si lascia proprio in un angolo l'input lag Va bene, il tempo di risposta è un millisecondo, il refresh rate è 144 A posto, lo compro No, no Il tempo di risposta, ormai penso l'abbiate capito più o meno tutti È il tempo che passa dal cambio di colore di un pixel da un colore a un altro Abbiamo fatto 250 video sui monitor Esatto, da nero a nero, da grigio a grigio Quindi ci sono varie misurazioni Questo lo diamo per assodato Quello che solitamente vedete come un millisecondo è grigio grigio, grey to grey Mentre il tempo che viene definito come input lag è il tempo fisico che impiega il segnale video Ad arrivare dalla fonte, dalla sorgente, che sia PlayStation, che sia un PC, che sia qualsiasi altra cosa Al monitor Segnale parte Tasto Voi lo state vedendo Esatto E questo perché è importante? Perché chiaramente in base a quanta latenza c'è in questo tempo Variano anche le nostre prestazioni in gioco Esatto, quindi è importantissimo far sì che questo percorso sia il più breve possibile E ricevere quindi la vista del nostro input già sullo schermo E parliamo di videogiochi, nello specifico, perché di fatto se un TV o un monitor ha un input lag molto alto Ma lo uso solo per guardare film Non vi cambia nulla Sti cazzi Non è interattivo, quindi non varia in qualche modo le prestazioni vostre in generale Quindi potete benissimo guardarvi un film anche con un ritardo di due secondi nell'input lag Non vi cambia assolutamente niente Tutto ciò che riguarda l'interattività riguarda l'input lag Esatto, l'input lag è fondamentale perché chiaramente se ho un secondo Anche un secondo che è esageratissimo come tempo di input lag Si, è allucinante Però esagerando appunto se ho un secondo e voglio giocare competitivo Fisicamente io sparo un secondo dopo, vedo un secondo dopo di quando effettivamente avviene la cosa in gioco Esatto Quindi per questo uno dei settori, chiamiamolo così, principali dell'input lag è il gaming competitivo Perché ovvio che se giocate a Civilization, per l'amor del cielo, sì Perché dà fastidio comunque Certo Però ovvio non è la prima cosa E ne parliamo in un video approfondimento appunto perché solitamente non è specificato in nessun caso Cioè quindi voi non vedete tra le specifiche tecniche anche l'input lag di un monitor Però perché l'input lag è un insieme di fattori Cioè non c'è una marca Cioè uno dovrebbe vendervi tutto quello che voi utilizzate Dal mouse al pc Ogni periferica deve essere perfettamente con la data testata da chi vi ha venduto È una cosa che non si fa Infatti Solo Nvidia con Reflex ha introdotto una cosa di questo tipo Una sorta di standard Esatto Mettiamola così Però è comunque ancora limitato È una bella cosa però ancora limitata Di fatto la cosa migliore per migliorare l'input lag È a monte Quindi acquistando gli oggetti giusti Sapere già che sono oggetti in linea con quello che dovrai fare E qua il da gaming che citavamo Ha più un senso Perché qua effettivamente c'è uno sviluppo nel da gaming Non è come la cuffia che cazzo cambia da gaming Cioè non ha senso da gaming E qua invece è gli strumenti specializzati Un mouse ad esempio compatibile con Reflex Molto veloce O Il monitor in primis O di usare le tecnologie della scheda video Che ti permettano di migliorare e ridurre l'input lag Quest'anti lag di AMD ad esempio Questo vi permette di diminuire questa tempistica E avere quindi un input lag minore E un'esperienza di gioco migliore La stessa cosa con PlayStation 5 È inutile avere 120 fps su una console Che poi chiudi nel tuo barracco in salotto E giochi a 3 metri con un joystick wireless Magari su un tv economico che l'input lag è orribile E tu dici Oh c'è 120 fps su PS5 Bravissimo Inutile Ancora peggio Se avete comprato magari 1200 euro 1300 euro di tv per giocare con PS5 E poi rinchiudete PS5 In un robo che non passa Ci sono i mobili che permettono il passaggio dei segnali Ci stiamo informando Anche noi siamo diventati esperti In tutto Nel mobilio Per cui potremmo aprire un canale di forniture Per cui siamo sul pezzissimo Quindi ci sono i mobili Ma se voi lo chiudete dentro E giocate wireless a 3 metri Tipo la distanza che c'è qua alla tv Ragazzi Non è bello E non è mica bello E non è mica bello Nello specifico però Di input lag Parliamo di qualcosa che è influenzata da più cose Quindi in primis la sorgente E infine ovviamente il dispositivo di output Quindi il monitor o tv che sia in generale E ci sono più parti Più diciamo ritardi Che sommati formano l'input lag Quindi a partire dall'invio del segnale Dalla sorgente al monitor Che richiede un tot di tempo ovviamente All'elaborazione Perché deve fare anche quello il monitor Elaborare l'immagine che gli arriva dalla sorgente E qua migliore il processore del monitor Migliore il risultato E ovviamente la parte finale Che dopo averla elaborata Farvela vedere Sta benedetta immagine Quindi in questo caso Una migliore tecnologia di trasmissione Aiuta a diminuire l'input lag Presente appunto Alla fine Per cui se utilizziamo cavi migliori Strumentazione migliore E ovvio Che abbiamo un risultato migliore Purtroppo nel pc C'è un detto ragazzi E voi adesso mi insultate Però è così Chi più spende Meno spende Nel pc come nella vita Generalmente Però nel pc è ancora più vera Chi più spende Meno spende E questo influenza Gli altri più o meno due ambiti Due ritardi diciamo Perché alla fine L'elaborazione dipende Sì da noi Per tutto quello che appesantiamo A livello di immagine Però dipende tutto dal processore Del monitor E della tv In generale Quindi più prestante è E più riesce a gestire meglio I carichi E l'elaborazione dell'immagine Ovvio che Se noi un'immagine La carichiamo A risoluzioni altissime Le buttiamo l'HDR Le buttiamo tutte Delle alterazioni dell'immagine Ci vuole il suo tempo Quindi più sono i carichi Che diamo da elaborare il processore E più alto sarà l'input lag Ovviamente Finale Mentre la visualizzazione Fisica Quella da noi Non ci possiamo fare un cazzo No Quello no Fisicamente Quindi o prendete Di base un dispositivo migliore E qui appunto Chi più spende Meno spende O basta O migliorate tutti gli ambiti prima Per quello è importantissimo Seguire le guide dei monitor O le guide di quest'altro Perché? Perché vi danno già un input Su quali sono i prodotti Da comprare Senza andare a come Giustamente facciamo noi Perché a noi piace sperimentare Ma sapete quante soldi Abbiamo buttato via In cianfrosaglie Inutili Quello che vogliamo evitare Noi come canale È cercare di indirezzarvi subito Alla soluzione più giusta Qualità prezzo Per voi E per il vostro utilizzo Perché alla fine Dipende cosa uno fa Se uno è super appassionato Cioè ripeto Adesso poi ci si scandalizza Però io Ho colleghi con 5000 euro di biciclette E nessuno si scandalizza per quello No infatti Per cui spendere magari 5-600 euro Per un monitor Per giocare Secondo me Non è una roba assurda Se uno è la sua passione Vuole farlo Ma ovviamente Se normalmente Tendiamo di consigliarvi Cioè senza troppi fronzoli Le periferiche migliori Cerchiamo anche di Acculturarvi L'ho detto in un tempo verbale Che non so neanche se è corretto Con questo tipo di video Quindi farvi capire Il perché scegliamo Queste periferiche da consigliarvi Anche per questo Scegliere le strumenti di input Migliori È ovvio che mouse e tastiere giusti È la cosa migliore Ora il punto focale Del video però È anche Che cosa potete fare voi Per migliorare Questo benedettissimo input lag Questo segnale Questo ritardo In generale Ci sono più opzioni Alcune un po' più facili Altre un po' più macchinose In primis però I punti che avete Che vi abbiamo detto prima Sono le cose principali Quindi cercare di appesantire Il meno possibile Si può fare Senza appunto Andare a far Far troppe elaborazioni All'immagine Da parte del monitor Della tv E ci sono varie Alternative impostazioni Soprattutto nelle tv Quindi le modalità gioco Modalità pc Che trovate In alcune tv Quelle sono fatte apposta Per diminuire Il più possibile L'input lag ad esempio E vi consiglio Di quando comprate Un monitor E volete settare Giustamente Il vostro monitor tv Di andare sui siti specializzati Per fare questo Come il tft center L'air things E altri monitor tv Super specializzati In generale Vi lascio un po' sotto In descrizione Non mi ricordo manco tutti Così potete settare Perfettamente Il vostro dispositivo A posto Ovvio è che Tutte le altre specifiche Influenzano anche loro A modo loro L'input lag E la quantità di ritardo Che c'è Per quanto riguarda Il vostro monitor Quindi ad esempio Se avete un tempo di risposta Inferiore Il classico Un millisecondo Gray to gray Aiuta ovviamente A diminuire l'input lag In fase di visualizzazione Dell'immagine O se avete una frequenza Molto alta Riuscite anche A migliorare l'input lag Così come Se aumentate la risoluzione Ovviamente sapete Che l'input lag In quel caso si alza Stesso disclaimer Però che dico sempre Qua parliamo di ritardo Di qua e di là Però se siete scarsi E il ritardo È tutto vostro E noi ne sappiamo qualcosa E noi ne sappiamo qualcosa Di ritardo siamo i massimi esperti Qua proprio Un modo che avete Per provare a misurarlo Il ritardo Quello però Non il vostro In caso questo del monitor Potete ad esempio Attaccare È una misurazione Molto approssimativa Non precisa Quindi non Viene fuori L'input lag Che avete Con questa misurazione Però Attaccando un portatile Con l'HDMI Al monitor Alla tv E facendo partire Un timer Magari vi lascio Qua sotto Un cronometro Un qualcosa Un sito Che vi faccia Un timer Visualizzato Fate una foto Ai due schermi E vedete lo scarto Che c'è In millisecondi Quello In quel momento Su quel processo Eccetera eccetera È l'input lag Che poi anche lì È approssimativa Perché non è detto Che anche collegate In hdmi Le due immagini Vengano riprodotte Nello stesso momento Quindi ci sono Tutte un sacco Di componenti Che non potete Misurare Però vi dà Un'idea di come Poter provare A vedere Qual è l'input lag E di cosa stiamo parlando Se la fai tu la foto C'è scritto Cuccio Quando vi dire Cuccio In più del normale Quindi sì È vero Non è facile Da ridurre Però cose come Le modalità gioco Modalità pc Sui tv Soprattutto se usate console Già vi vengono In aiuto parecchio Quindi Però ecco Non fatevi troppe fisime Nel momento in cui Avete comprato Una buona attrezzatura Infatti Siete a posto ragazzi Siete a postissimo No infatti Perché state sui 40-50 Infatti Non voglio ammettervi paranoia Adesso mi vedi quello Col monitor a 1000 euro Oddio L'input lag Non lo posso usare Eh calma Perché anche se avete Un input lag Tranquillamente 50 millisecondi L'input lag Va benissimo Sotto i 50 Va benissimo A meno che non siete power Non lo vedete neanche Sì infatti Se state nel range Dei 50 millisecondi Va benissimo Se superate i 100 È un problema Potrebbe dare fastidio Se vabbè Avete le soluzioni Reflex Cazzi e mazzi Super hiper Puppamelo Eccetera eccetera State sotto i 20 Allora lì Non ne parliamo A posto Fateci sapere ragazzi Se sapete già tutto Quello che abbiamo detto Oppure no Se vi è stato utile il video Qual è la vostra configurazione Se giocate competitivo O no Se avete problemi Di input lag E alla prossima ragazzi Alla prossima Alla prossima Grazie.